La scelta nasce fondamentalmente per rendere omaggio ad un grande campione, quindi come Cinema Filo, in collaborazione con la Società Filodrammatica Cremonese, abbiamo appunto ritenuto doveroso ricordare Gianluca Vialli, lo ricorderemo non solo dal punto di vista sportivo, appunto guardando questo bellissimo documentario che gli è stato dedicato a lui, a tutta la squadra della Sampdoria in quell'anno incredibile della vittoria dello Scudetto, ma appunto anche volevamo sottolineare l'uomo Gianluca Vialli, il filantropo, la persona che aiutava ed era vicino alle associazioni del territorio, il motivo per il quale la serata è vero, sarà ad ingresso libero, ma chiederemo la possibilità di un contributo e il tutto verrà devoluto ad Agropolis, questa bellissima associazione creata ormai da moltissimi anni dove Gianluca Vialli ne era stato uno dei fondatori. Quindi, ripeto, interessante sicuramente la visione del documentario, ma vogliamo sottolineare insieme all'idea del geometra Mantovani, nostro presidente, di ricordarlo appunto come uomo, come persona che nel dolore ci ha fatto capire l'importanza della sfida e di cercare di superare le avversità. Lui lo ha fatto in due modi, appunto dando fiducia anche alle persone che si trovavano nella sua stessa identica condizione, ma anche appunto sostenendo le associazioni sul territorio cremonese e non solo, pensiamo anche all'associazione Mauro Vialli per la SLA.